Ok ragazzi, Chiara Ferragni, finite le vacanze di Natale, torna in servizio ringraziando tutti coloro che le sono stati vicini in un momento così difficile, anche tramite critiche costruttive. E quando Chiara Ferragni torna a normale operatività dopo tutto quello che è accaduto, che cosa potrà mai andare storto? Grazie a tutti. Più i suoi account o viceversa sono diventati critici particolarmente attivi e nel migliore dei casi non mancano occasione di far notare con ironia quanto siano scorretti anche i comportamenti di tutti i giorni di Chiara Ferragni, anche quelli che tendenzialmente sarebbero innocenti, come per esempio il festeggiare il Capodanno alle 21 invece che alle 24, per permettere ai bambini di vedere qualche fuoco d'artificio della Disney in tv e vivere così una festività tipicamente riservata agli adulti, perché normalmente i bambini piccoli a mezzanotte dormono. Poi naturalmente se da un punto di vista comico la battuta prende in giro anche i bambini con riferimento al festeggiare il Capodanno in anticipo, oggettivamente è abbastanza comica e un sorriso te lo strappa, a te che sei estraneo alla vicenda, altrettanto ovviamente non può dirsi per la diretta interessata. Poi verosimilmente essendo la Ferragni un personaggio pubblico e con tutto quello che è successo non è da escludere, anzi è probabile che battute del genere rientrino nel diritto di critica, per quanto crudeli. Ma naturalmente il mio consiglio professionale è quello di dosarle il più possibile. Ricordatevi che anche l'ultimo degli imbecilli può querelarvi e provocarvi una marea di bippini. Figuratevi che cosa può fare una professionista come Chiara Ferragni con i fondi di Chiara Ferragni. Poi sì, naturalmente il pubblico ministero può chiedere l'archiviazione del vostro caso e sì, potete anche riuscire a chiudere il tutto senza troppi problemi. Ma, primo, non è detto che tutto vada liscio e che non sia necessario un intervento vostro o da parte di un vostro difensore. Nel caso in cui venga nominato un avvocato, anche in ufficio, se non avete diritto al patrocinio a spese dello Stato e non lo chiedete, l'avvocato va comunque retribuito. E questa chiaramente è una scocciatura. Avere un giudizio pendente e un'altra immane scocciatura, quindi, anche se avete tutte le ragioni del mondo, siate sempre prudenti. In secondo luogo, poi, dovete pure averle tutte le ragioni del mondo. Nel caso specifico, se volete esercitare il vostro diritto di critica, siete naturalmente liberissimi di farlo, ma ricordatevi che dovete farlo con continenza e cioè senza esagerazioni o lesioni inutili in confronti della reputazione dell'altra persona. Tutto quello che dite deve essere proporzionato ai fatti per come è possibile conoscerli, quantomeno applicando la dirigenza del buon padre di famiglia. Verificate sempre le fonti, non date nulla per scontato e poi, quando criticate, ripeto, cercate di farlo con senso della misura. Naturalmente, questo discorso vale tanto per la Chiara Ferragni di turno quanto per l'ignoto vostro vicino di casa, con l'aggravante che, se volete fare battutacce sui social nei confronti del vostro vicino di casa, dovete prima assicurarvi che quello che ha combinato il vicino di casa possa essere di interesse per la comunità mondiale tutta e non sia invece una questione limitata al vostro pianerotto. Perché in questo caso verrebbe meno la proporzionalità fra esigenza di informare il pubblico e, naturalmente, il tono applicato alla notizia. In pratica, il fatto di avere delle dita con dei pollici opponibili, una tastiera e una connessione a internet, non vi autorizzano a scrivere tutto quello che vi passa per la testa. Fatta questa doverosa premessa, bisogna anche dire che non tutti gli odiatori di Chiara Ferragni si sono limitati a qualche dislike e a qualche critica, forse sopra le righe, forse no. Ce n'è almeno uno o una che è andato e andata direttamente nel suo negozio. Fra il 31 dicembre e il primo gennaio, qualcuno o qualcuna ha avuto la non del tutto brillante idea di scrivere un paio di insulti. Uno sulla targa del negozio di Chiara Ferragni, l'altro direttamente sulla vetrina. Se volete saperlo, le due parolacce prescelte iniziano per la B nel primo caso e per T nel secondo, ma non hanno nulla a che vedere con gli abiti disinibiti che normalmente indossa la Ferragni. Gli insulti non sono bottena e troia, come tutti voi avrete pensato, ma sono in realtà bandita da una parte e truffatrice dall'altra. Il danno subito dal negozio è stato minimo e praticamente inesistente, tant'è che credo sia abbastata una passata con un po' di alcol e uno straccio, di marca ma pur sempre uno straccio, per cancellare queste parolacce. E resta solo la curiosità giuridica di capire se e cosa rischia il tizio che si è alzardato a comporre in essere questa condotta. I casi sono sostanzialmente due. Quasi certamente andrebbe incontro a una condanna per deturpamento, ex articolo 639 nel nostro codice. Si tratta di una sanzione minima. Se non erro, viene prevista l'ammenda fino alla fantascientifica somma di 103 euro. In pratica costa di più perseguirlo e costa molto di più la sua difesa rispetto poi alla sanzione che viene effettivamente erogata. E in alternativa un avvocato particolarmente eclettico potrebbe sostenere che quella persona ha consumato il reato di diffamazione mediante uno scritto. Perché ovviamente ha attribuito due epiteti da criminale a una persona che al momento attuale non è indagata per quanto possa aver tenuto un comportamento scorretto e non esattamente conforme ai principi del buon padre di famiglia nel gestire la sua comunicazione. Diciamocelo, promettere beneficenza che non si fa non è esattamente il massimo e certamente, come abbiamo visto, difficilmente è solo un errore di comunicazione. È qualcos'altro. Poi quel qualcos'altro si vede nelle sedi opportune, certamente non scrivendo parolacce su una vetrina. Altro dettaglio interessante di questa vicenda è la strategia di comunicazione scelta da Chiara Ferragni per gestire questa crisi. È evidente che l'influencer slash imprenditrice è finita nell'occhio del ciclone, lo è credo ormai da 18 giorni, e la strategia che ha scelto è stata quella praticamente di sparire alla vista. Il suo account è rimasto fermo. Il che, teoricamente, è una cosa anomala per un influencer. Un influencer deve essere presente sui social per definizione. Se non lo è, un pochino come gli squali che smettono di nuotare, affonda e poi forse non riesce più a riemergere. Nel caso specifico, però, la Ferragni si è mostrata una professionista della comunicazione. Può piacere, può non piacere, però bisogna dare atto del fatto che è riuscita a creare un piccolo impero e che a oggi è riuscita a gestirlo in maniera dignitosa. Fino a 20 giorni fa avrei detto abbastanza bene, adesso stiamo calando un pochino con gli standard. Vedremo poi come ne uscirà per il giudizio finale. Fatto è, comunque, che la Ferragni ha deciso di scomparire. Questa mossa, normalmente, non è raccomandabile. Se voi avete un'immagine pubblica, dovreste curarla sempre e comunque ovunque. Se sparite dalle scene, non è detto che poi in un secondo tempo potreste tornarvi. Tuttavia, Chiara Ferragni qui ha fatto una cosa decisamente più intelligente. E si è sparita dalle scene, ma ciò nonostante di lei e del suo brand si è continuato a parlare, anche senza suoi interventi diretti. Quindi l'attenzione mediatica su di lei è stata mantenuta e ha sfruttato questi 12-18 giorni per riorganizzarsi. Da una parte ha certamente studiato la strategia di comunicazione da attivare da oggi in poi. E infatti, come potete notare, ha deciso di tornare a lavorare esattamente come prima, senza difficoltà. Dall'altra, da imprenditrice, avrà dovuto valutare le strategie da seguire con riferimento ai clienti, quelle veri. Con tutto il rispetto per i follower, i follower valgono pochi centesimi al mese, pochi euro al mese. Viceversa, i clienti, come Safilo che se n'è andato non è più un cliente, come Balocco che se n'è andato non è più un cliente, valgono invece centinaia di migliaia di euro all'anno o addirittura milioni di euro all'anno. Quindi capite che anche i rapporti contrattuali sono da gestire e verosimilmente se la Ferragni deve dare una priorità la darà ai contratti da milioni di euro e non ai singoli follower. Questo credo sia pacifico. Per cui Chiara Ferragni ha dovuto gestire entrambi questi aspetti. Del lato imprenditoriale non sappiamo assolutamente nulla, come è normale che sia. Le sue imprese anzi terranno le bocche belle cucite, come è giusto che sia. Viceversa, dal lato social sappiamo che ha fatto dei test per ricomparire. Durante le vacanze invernali è stata ripresa solo una sua mano, una sua battuta dall'account di Fedez, non dal suo. Ed è stata testata la reazione lì, non è stata positiva. Poi per la notte di Capodanno è letteralmente comparsa in video. Anche qui la reazione non è stata positiva, ma verosimilmente non è stata tanto negativa quanto temeva. E in ogni caso, reazione positiva o negativa, devi tornare sulle scene. Il fatto che si parli di te e che ci sia un effetto impropriamente detto astrascico, da me e solo da me, è un esperto di comunicazione, utilizza ben altri termini, non vuol dire che questo effetto sia benefico e soprattutto che dura in eterno. Per come la vedo io, la Ferragni ha provato a testare l'ambiente, ha provato a far sfogare un pochino il pubblico sull'account del suo coniuge e poi ha deciso di tornare. Deve farlo per forza, perché lei di immagine ci vive, le sue imprese vivono con la sua immagine, quindi non era possibile scegliere un'opzione diversa. Verosimilmente ha provato a far sbollire un pochino i suoi follower sfruttando l'account del coniuge. Adesso, sperando per lei che il peggio sia passato, proverà a ricostruire quello che ha perso, ripartendo esattamente come se nulla fosse accaduto. Vedremo se ci riuscirà sotto il profilo mediatico e vedremo se ci riuscirà anche sotto quello imprenditoriale. Perché nessun cliente ovviamente si esalta nella prospettiva di spendere centinaia di migliaia o addirittura un milione passa di euro per avere un servizio pubblicitario che poi ti trascina davanti all'antitrust e ti fa condannare a pagare altri 400.000-500.000 euro. Queste sono cose che i clienti non sopportano, come è facile intuire. Quindi, che cosa dire? La partita per Chiara Ferragni è ancora aperta, vedremo come si evolverà. E mentre osserveremo quello che farà, potremmo tutti quanti imparare qualcosa su come va gestita o non va gestita la propria immagine e la propria impresa. E voi che cosa ne dite? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, ricordatevi di diventare un Patreon, se volete potete, o perlomeno di iscrivervi al canale, attivare la campanella, condividere i video con gli amici che possono essere interessati e naturalmente lasciare un mi piace grande e grosso. Normalmente pubblico video alle due e mezza del pomeriggio per le questioni italiane relative alla politica e alla società, mentre invece dalle otte e trenta alle dieci e mezza di sera per le questioni di geopolitica internazionale e curiosità assortite. Sapete dove trovarmi e quando. Grazie di tutto per tutto e a presto!